Sei a Livigno e sembra di essere in una cittadella olimpica. Tanti sono i campioni che si incrociano nelle strutture sportive del piccolo Tibet. Fare sport in altura è utile per migliorare le prestazioni, ma qui a 1800 metri natura e struttura sportive sembrano essersi unite. L'Alta Valtellina sembra infatti aver trovato la via giusta facendo del turismo sportivo un'arma vincente. Il ciclismo, ad esempio, ha eletto Livigno e le sue strade di montagna a tempio dell'allenamento in altura. Fra gli atleti che hanno fatto piacevole fatica con le ruote lisce troviamo l'icona del ciclismo moderno Marc Cavendish, oltre che la coppia nazionale Elia Viviani ed Elena Cecchini. Un Viviani, oro su pista ai giochi 2016, che guarda con interesse anche al prossimo Tour de France. Fra chi prepara le gare importanti sull'altopiano più alto d'Europa, utilizzando anche la struttura acqua granda, c'è la divina Federica Pellegrini, tornata in altura per una dieci giorni di allenamento nella piscina da 25 metri. Sempre in acqua grande non è passata inosservata la presenza di Valentina Diouf, stella della pallavolo italiana, che ha scelto la località valtellinese per qualche giorno di allenamento. La Diouf, dopo aver vinto tanto in Italia, è ora una stella nel massimo campionato coreano. Ma non è tutto. Dalle 1 luglio a Livigno è scattata anche un'altra iniziativa sportiva, Livigno Active Challenger, una serie di sfide individuali su tracciati di corsa, mountain bike, ciclismo, triathlon, enduro e downhill, che ogni mese assegnerà premi e riconoscimenti ai più veloci ad esprimere le proprie prestazioni singolarmente e a caricare i risultati nell'apposita pagina dedicata all'interno del sito www.livigno.eu. Dunque, che dire, buona fatica a tutti!